Gruppo Spinelli, Logistics Provider Un saluto da Pietro Rot e benvenuti a Transport, puntata numero 306 che iniziamo parlando di nautica allora andiamo a Genova dove Amico & Co ha presentato, ha inaugurato il suo nuovo ship lift un vero e proprio ascensore per le barche che può sollevare fino a 4000 tonnellate guardate le immagini perché ne vale davvero la pena è già operativo da metà ottobre ma il nuovo ship lift presentato da Amico & Co promette di essere una vera e propria rivoluzione per l'operatività del cantiere genovese con una portata di 4000 tonnellate permetterà di superare i limiti derivanti dall'utilizzo dei bacini di carenaggio grazie a un sistema costituito da una piattaforma sommergibile e da carrelli posti su rotaie la piattaforma avrà il compito di sollevare lo yacht una volta ancorato ai sostegni da sub specializzati fino al livello del piano banchina grazie ad argani sincronizzati poi entreranno in funzione i carrelli che viaggiando su rotaie potranno spostare l'imbarcazione verso una delle 5 nuove postazioni ricavate grazie alla ristrutturazione di un'area di 25 mila metri quadri il tutto alimentato da un sistema elettrificato ad emissioni zero siamo riusciti già a partire con le operazioni a partire da fine ottobre e questo ci ha permesso di avere in terra già tre barche più altre due arriveranno presto e quindi avere importanti contratti che sono già motivo di grande soddisfazione insieme a noi lavorano un network di circa 30-40 aziende specializzate in più c'è l'impatto sul territorio che è dato dalla spesa degli equipaggi e da tutte le altre attività e servizi che vengono fornite dalla città un'opera realizzata in tempi record dopo appena 14 mesi di lavoro e grazie a un investimento complessivo di oltre 27 milioni di euro 13 milioni con un finanziamento agevolato erogato da Invitalia 4 concessi sempre da Invitalia in conto capitale e i restanti 10 a carico di Amico & Co al di là dei costi e dei tempi però il nuovo ship lift permetterà ad Amico & Co di ospitare imbarcazioni fino ai 95 metri di lunghezza ed anzi già oggi la nuova infrastruttura ha permesso al cantiere di acquisire nove nuovi contratti un deciso balzo in avanti rispetto ai due o tre che sarebbe stato possibile accettare senza l'innovazione rappresentata da questa grande opera di riorganizzazione e ammodernamento il nostro mercato che è quello del refitting di MaxiOct segue una tendenza oramai di diversi anni a un aumento delle imbarcazioni che devono essere sottoposte ai lavori quindi per poterne lavorare più di una contemporaneamente per una ovvia ragione di economia di scala aziendale abbiamo realizzato questa struttura che permette di alare a terra perché si tratta di lavori che devono, questo va ricordato che i lavori devono essere effettuati in secca e quindi rispetto al bacino di carenaggio che come è evidente presuppone che le imbarcazioni vengano lavorate una alla volta con questo sistema invece abbiamo la possibilità di mettere in secca e lavorare contemporaneamente su più imbarcazioni fino a 95 metri diciamo da 60 a 95 metri Ma i cantieri Amico & Co guardano già al prossimo obiettivo la realizzazione delle infrastrutture della futura Darsena Nautica un'area dedicata all'accoglienza dei grandi yacht e dei loro ospiti ed equipaggi una marina all'avanguardia che possa rappresentare la porta dell'intera città La Darsena Nautica che è stata a lungo sottoutilizzata vedrà un investimento di circa 6 milioni di euro che consentirà di avere infrastrutture a terra e banchine che permetteranno l'accoglienza di questi yacht per le attività complementari alle attività di cantiere quindi una vera e propria marina che nel tempo dovrà sviluppare quei servizi a terra utili anche per la cittadinanza e per il salone nautico E adesso parliamo di trasporto pubblico locale lo facciamo grazie alla tavola rotonda andata in scena durante Move Up Expo nell'ambito della Genova Smart Week una tavola rotonda sull'innovazione nel trasporto pubblico locale e proprio grazie ai continui rinnovamenti tecnologici ATM Milano è riuscita a incrementare la quota dei passeggeri trasportati ne abbiamo parlato con il suo presidente Luca Bianchi Aggiorniamo un po' anche il pubblico che ci ascolta il cittadino comune ATM, innovazione, tecnologia al top sicuramente l'azienda italiana di trasporto pubblico che funziona meglio lo dico io che sono giornalista però ecco all'ordine del giorno oggi che cosa c'è? Quali sono state le ultime innovazioni? E soprattutto un numero di utenti che sta salendo che è salito notevolmente anche probabilmente in considerazione della tecnologia che avete messo a disposizione Allora partiamo da quest'ultima considerazione il numero di utenti che crescono ogni anno e in maniera sistematica direi che sono vari fattori che contribuiscono cito i due forse più semplici uno un trasporto pubblico sempre più diffuso e sempre più accessibile dall'altro lato anche un aumento del turismo su Milano che si misura con cifre molto importanti a doppia cifra che chiaramente il turista tende a usare il trasporto pubblico per cui due fattori che convergono il miglioramento della flotta aumento delle percorrenze per cui tutto questo contribuisce a un maggiore utilizzo del trasporto pubblico Ecco, parlando di tecnologie contactless, grande successo un'operazione che ovviamente oggi è indispensabile lo vediamo all'estero lo vediamo in alcune grandi metropoli però voi siete sul pezzo in maniera importante Sì, abbiamo introdotto la contactless meno di un anno fa abbiamo già 12 milioni di transazioni transazioni nel senso tap in tap out per cui un successo enorme noi reputiamo che non abbiamo dei dati esatti ma con un campionamento statistico reputiamo che il fatto di avere introdotto la contactless abbia indotto dei nostri clienti che non erano clienti del trasporto pubblico all'utilizzo del trasporto pubblico stiamo in queste ore lanciando il contactless sui mezzi di superficie sulla linea 73 che è quella che collega Linate ovviamente però reputiamo che in tempi molto rapidi sarà diffusa tutta la rete di superficie questo un po' come si diceva questa mattina veramente renda accessibile a chiunque perché non è richiesta un grado di digitalizzazione anche minimo per l'utilizzo dell'app per comprare biglietti anche con sms ma in questo caso con un bancomat si accede a tutta la rete rapidamente Un'ultima battuta sulla sottolineabilità sul fatto che i vostri mezzi cominciano ad essere sempre più green sempre più poco impattanti e l'obiettivo un po' qual è? Allora noi abbiamo lanciato lo scorso anno il piano full electric evidentemente è un piano che è stato condiviso pienamente con l'amministrazione in base a questo piano noi entro il 2030 avremo convertito tutta la flotta al 100% all'elettrico questo rappresenta una riduzione di CO2 pari a 75.000 tonnellate all'anno visto che siamo a Genova si parla di navi sono due portaerei allora abbiamo già lanciato abbiamo già acquistato 30 autobus abbiamo aggiudicato una gara per 250 nuovi mezzi elettrici compriamo altre 80 tram bidirezionali che sono ovviamente elettrici per cui è un piano che sta prendendo accelerazione faremo nuovi depositi totalmente ecosostenibili per accogliere questi nuovi mezzi elettrici per cui è concreto e in realtà sta succedendo e ancora trasporto pubblico locale innovazione nel trasporto pubblico locale ad esempio con le soluzioni di Ticketing Contactless che offre AIP Ticketing Solution Giovanni Beccattini oggi qui a Palazzo della Borsa per MoveUp abbiamo parlato delle innovazioni delle aziende di trasporto pubblico per conquistare fette di mercato e conquistare nuovi cittadini una delle problematiche che è emersa è davvero quella relativa al ticketing c'è questo dato delle edicole che scompagnano dei tabacchini magari chiusi alla domenica voi avete la soluzione in tasca qual è? assolutamente abbiamo più soluzioni in tasca sicuramente quella che in questo momento sta rispotendo il maggior successo è il pagamento con carte bancarie credo che AIP sia oggi in senso assoluto l'azienda che ha più città in funzione penso sia ormai una dozzina o una quindicina di città dove nell'ambito urbano si può salire e pagare con carta di credito con un gesto molto semplice e molto facile oggi molte aziende hanno detto che cosa hanno loro in mente ce ne sono ancora tante però che hanno ancora strumenti cartacei ripetiamo un attimino quali sono i vantaggi e sono chiari per il cittadino non ho il biglietto, salgo a bordo, passo la carta di credito ci sono vantaggi inestimabili anche per le aziende oggi il grande oro sono i dati si dice spesso e questi sono dati che potrebbero aiutare anche a fare meno corse paradossalmente capendo che su una determinata linea in un determinato orario non c'è gente assolutamente molte volte anche nei convegni si pone l'accento principalmente sulla comodità per il cittadino offerta da un sistema di bigliettazione elettronica ma come lei ha giustamente colto il vero vantaggio per un'azienda è avere uno strumento di gestione che consente di sapere esattamente chi e come sta utilizzando i propri mezzi quindi questa è la base assolutamente indispensabile se si vuole offrire un servizio pubblico di qualità magari tagliando certi rami che non sono utilizzati e rafforzando il servizio dove serve uno strumento di gestione al pari della contabilità della gestione del magazzino che è assolutamente indispensabile in qualunque azienda moderna adesso invece parliamo di un sistema di trasporto davvero particolare un nastro trasportatore che Agudio Leitner ha installato per gli scavi del terzo valico ferroviario il terzo valico dei Giovi un nastro trasportatore davvero particolare con alcune soluzioni all'avanguardia sentiamo L'impianto è in funzione nel cantiere di Cravasco quindi cantiere terzo valico la particolarità di questo cantiere sono le ridotte dimensioni del cantiere all'uscita della galleria per cui il materiale che uscirà dallo scavo della galleria doveva essere trasportato a stoccaggio utilizzando da progetto originale un nastro trasportatore che attraversa la Valpolcevera e va a depositare il materiale nella cava lì di fronte la nostra proposta ormai qualche anno fa è stata quella di sostituire questo nastro tradizionale che diciamo per tipologia costruttiva del nastro doveva necessariamente appoggiare su una struttura metallica molto importante quindi sostanzialmente era come realizzare un ponte per collegare i due versanti della valle per poi posizionarci sopra un nastro relativamente piccolo perché parliamo di 500 tonnellate ora di capacità di trasporto la nostra soluzione invece permette il collegamento dei due versanti della valle con un impianto a fune quindi l'infrastruttura è composta da quattro funi portanti all'interno delle quali viaggia il nastro trasportatore e le funi sono collegate direttamente a diciamo un'opera civile quindi una piccola opera in calcestruzzo dove le funi sono ancorate e senza diciamo necessità di alcuna struttura metallica questo chiaramente ha un enorme vantaggio dal punto di vista dell'impatto ambientale dell'opera sia durante il funzionamento perché sostanzialmente se uno guarda il nastro lo vede come come se fosse un elettrodotto quindi dei cavi sospesi con all'interno un nastro trasportatore quindi come una linea che collega i due versanti della valle sia diciamo alla fine dell'utilizzo una volta concluso l'opera di scavo sarà semplicemente possibile rimuovere le funi e non ci sarà diciamo nessun'opera che ha danneggiato il territorio voi siete dovuti tra virgolette correre ai ripari un po' in corso d'opera per la questione relativa all'amianto e avete dovuto cambiare qualcosina nella struttura del nastro trasportatore rispetto a come era stato pensato in origine ma in realtà la presenza dell'amianto pone diciamo un bivio alla gestione del materiale quindi se il materiale ha dell'amianto non può essere trasportato con un nastro tradizionale e quindi non può essere trasportato neanche con il nostro nastro tantomeno non può essere se noi pensiamo alla fine di questa catena di nastri lo stoccaggio è uno stoccaggio all'aria aperta chiaramente un materiale contenente amianto non può essere stoccato in questo modo per cui se un domani dovesse ripresentarsi questa problematica dell'amianto la gestione del materiale di scavo dovrà essere fatta come è stata fatta qualche anno fa quindi con un confezionamento in big bag e uno smaltimento in discarica come rifiuto speciale Finisce qui la prima parte di transport ma restate con noi torniamo subito dopo la pubblicità in big bag Grazie a tutti. Logistics Provider Ben trovati a Transporte, seconda parte della puntata numero 306. Torniamo a Venezia. La scorsa settimana abbiamo parlato approfonditamente con il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Pino Musolino, del fenomeno dell'acqua alta, delle protezioni necessarie per la laguna Veneta. Adesso invece facciamo il punto sui tanti altri temi che coinvolgono il mare adriatico settentrionale. Primo fra tutti, un vero e proprio problema impellente, quello dei dragaggi. Presidente, parliamo un pochino di business. Siamo arrivati quasi alla fine del 2019, 11 mesi sono passati velocemente come al solito. Peraltro, possiamo anticipare qualcosina sui risultati? Abbiamo ancora qualcosa da verificare o comunque preferisce farlo più avanti? Comunque è una situazione che si può fare. Io posso fare una sintesi con tinte non particolarmente rosee ma per due ordini di motivi. Io vorrei ricordare che 2017-2018 noi li abbiamo conclusi con i record storici di traffico mai ottenuti nel porto di Venezia in una serie importante di tipologie merceologiche e due anni di seguito record contenitori su contenitori. 100% gateway. Ci tengo a ricordarlo perché poi insomma anche nella valutazione dell'impatto economico di un porto e delle sue capacità di attrarre traffici anche questo ha una sua ricaduta. Quest'anno lo chiuderemo con un segno meno. Lo chiuderemo con un segno meno perché ci sono stati comunque, non siamo gli unici, delle ricadute sulla congiuntura internazionale date da varie questioni che voi sapete già insomma dalla guerra tra Cina e Stati Uniti, una serie di rallentamenti complessivi, la permanente comunque instabilità nel Mediterraneo, insomma c'è tutta una serie di elementi che ci hanno penalizzato. Una tendenza, una contrazione economica insomma che pare stia diventando sempre più concreta verso il 2020 insomma quindi questo ci ha sicuramente rallentato. Ma poi, una questione, tutte locali, lei ricordava prima i dragaggi. Noi abbiamo perso quest'anno circa 100 navi, non perché non siamo capaci di attrarre, non perché non siamo stati sufficientemente interessanti per il mercato, non perché non avessimo il traffico, ma perché non siamo stati messi nelle condizioni di fare i dragaggi manutentivi ordinari, ricordiamolo, che sono il compito principale, uno dei compiti principali che le autorità di sistema hanno, la garanzia della piena accessibilità nautica. E non siamo stati messi nelle condizioni di poterlo fare perché altri pezzi delle amministrazioni statali non ci hanno dato da un lato i siti per il conferimento, è stato trattenuto il cosiddetto protocollo di caratterizzazione dei fanghi, la cui versione attuale risale al 1993, quella nuova doveva essere imminente 14 mesi fa e ancora non è uscita e come vede, chiaramente se con una mano non mi dici dove metto i fanghi, con l'altra non mi metti nelle condizioni di poterli caratterizzare, non ci vuole un ingegnere idraulico e non ci vuole un esperto di logistica per capire che prima o poi un porto si interra. Noi abbiamo, io l'ho detto, io mi sono insediato nell'inizio del 2017, ho cominciato a dire che quello sarebbe diventato un problema pochissimi giorni dopo il mio insediamento, ho continuato a dirlo finché non è effettivamente diventato un problema, ho continuato a dirlo anche quando da problema è diventato emergenza, ora è diventato emergenza e improvvisamente tutti si accorgono che se non draghi i canali di accesso al porto, il porto non fa entrare le navi e quando non entrano le navi le persone cominciano a perdere i posti di lavoro. Ecco, ma a questo punto l'emergenza è conclamata, la gente probabilmente se ne è, la gente, le autorità, la politica, il locale e nazionale se ne è resa conto, abbiamo speranza di risolvere il problema? Guardi, noi abbiamo presentato agli altri organismi e organi dello Stato competenti una serie anche di soluzioni perché noi non siamo solo a richiedere, siamo stati anche proattivi, anche se volete con, almeno sulla carta, delle invasioni di campo, nel senso che ci siamo presi la briga anche di dire, i siti di conferimento individuabili per alcuni conferimenti di alcuni tipi di dragaggi potrebbero essere questi, questi e questi. Quindi non siamo stati solo seduti ad aspettare la manna dal cielo, però è evidente che a un certo punto, oltre alla fase di analisi, oltre alla fase di studio, oltre alla fase di elaborazione, questo paese deve diventare determinante anche nella fase di scelta e poi nella fase di esecuzione delle scelte, perché altrimenti rimaniamo solo dei grandissimi teorici. E però con la teoria, vede, noi rischiamo di mandare a casa le persone. Io me lo faccio a dire, se vuole, scado 30 secondi nella retorica. Io sono stato uno dei veneziani che per quasi un decennio ho dovuto emigrare perché di lavoro non ce n'era. E quindi quando sono tornato a Venezia con la fortuna, la possibilità di essere il presidente dell'autorità di sistema portuale, ho sempre sentito e sempre sentirò come prioritaria la necessità di mantenere il lavoro esistente, ma soprattutto di creare del lavoro futuro, perché una città che non offre un posto di lavoro non offre la possibilità di condizioni di vita decenti ai propri abitanti. Il fatto che si rischi importanti ricadute sotto i profili occupazionali, non perché appunto il mercato dice, no grazie, Venezia non ci interessa, non perché non siamo stati capaci di dare strutture e servizi importanti, non perché non siamo uno dei porti più vicini al cluster industriale produttivo del nord-est, ma perché tra le varie pieghe, anzi tra le varie sabbie dello Stato, visto che mi pare appropriato la metafora, si piantano dei provvedimenti, ecco questo da veneziano da cittadino più che da amministratore mi fa veramente arrabbiane. Allora un'altra virata, la vostra autorità di sistema è come quasi tutte parte di Assoporti, Assoporti è un'entità che è stata anche messa spesso in discussione, qualcuno, pochi, uno, due, è anche scappato di qualche suo collega. Recentemente voi avete partecipato da un paio di missioni all'estero, come Assoporti, ne abbiamo parlato prima, sia in Cina sia in Qatar. Ecco, la prima domanda molto sintetica che le volevo fare è, Assoporti ha ancora ragione di esistere oggi e se ha ragione di esistere che cosa deve fare per innovarsi e per funzionare meglio. Ottima domanda. Beh, allora, che ci sia la necessità per una casa comune dei porti italiani dove discutere, elaborare, analizzare e produrre, come dire, dei documenti di sostegno al decisore politico nazionale è in dubbio. Il fatto che, come dire, i porti siano diventati, tornati a essere centrali nella discussione macro, no? Pensate alla Via della Seta, pensate ai grandi interventi infrastrutturali, pensate alle reti TNT europee, insomma, tutti parlano di porti. E il paese che ha 57 porti e 16 autorità di sistema portuale, no? Con l'ultima neocostituita, dovrebbe così indicativamente interessarsi di questo. È evidente che la casa naturale dove i porti italiani dovrebbero fare questo lavoro di think tank, no? Di elaborazione anche teorica, di linee da proporre al resto del sistema paese, è essenziale. Il problema è che in questo momento non l'ha fatto, non lo sta facendo, ha sopporti, è silente. Se guarda, parlano molto altro dei porti italiani, tantissime altre realtà associative, tantissime altre realtà imprenditoriali, ma il dramma che i porti italiani, di porti italiani parlano tutti, tranne i porti italiani, non posso non sottolinearlo. Noi abbiamo provato, io ho anche sottoscritto, a criticare in senso positivo, perché di fronte a una situazione che in qualche modo non produce risultati, uno deve andare a trovare soluzioni alternative, se non passi dritto per dritto entri di lato. La cosa sta elaborando, però i tempi di elaborazione di assoporti sono ancora troppo lenti rispetto a quelle che sono le necessità del Paese. Manca la struttura, manca veramente un'articolazione interna che permetta di lavorare in maniera, oppure qualcos'altro? No, io credo che la struttura, ok, può essere sempre migliorata, perché tutto è migliorabile e perfettibile, però è evidente che una struttura si muove in funzione delle direzioni e delle indicazioni che vengono date dalla testa, è il manico che dice dove va il coltello, mica la lama. E quindi è evidente che alcune cose non funzionano proveniendo da noi. Guardi, si faceva, tra l'altro, con alcuni colleghi recentemente, un'analisi, nell'ultimo mese c'è stata l'assemblea di Confitarma, dove sono intervenuti il primo ministro, tre ministri, si è parlato moltissimo di connettività, di porti a un livello altissimo, c'è stata l'assemblea di Alice, c'è stata la Gorà di Confetra, non c'è stata né un'assemblea, né un incontro, né un position paper, ma neanche una slide prodotta da assoporti. Allora, io credo che i porti italiani e la capacità dei porti italiani di elaborare sia molto migliore di questa. I 15 colleghi attualmente nominati sono tutti di altissima qualità e le strutture delle nostre autorità di sistema portuale sono altrettanto di altissima qualità. Si tratta di avere la capacità, diciamo politica, nel senso laico del termine, da parte dei porti italiani, di cominciare a riprendere la propria posizione, come anche elaboratori di pensiero all'interno di schemi più ampi della catena logistica nazionale. Allora, io parlerei, per avviarci verso la conclusione di questa intervista, tornerei a parlare di internazionalità, di internazionalizzazione, di quello che avete fatto recentemente, di alcune firme anche, di accordi che avete fatto, se non sbaglio, in Cina, Shenzhen, in Qatar forse, col cappello di assoporti, vero? Assolutamente, io ho avuto l'onore, se vuole, la fortuna di essere stato il capo delegazione in quanto assoporti di entrambe le missioni perché per vari motivi non c'era la possibilità che ci fosse il presidente e non c'erano altri delegati, insomma sono stato onorato da questa possibilità. Shenzhen ha appunto avuto anche l'opportunità di firmare proprio un protocollo di collaborazione di assoporti con le realtà cinesi proprio per implementare un rapporto di collaborazione ma anche di scambio di informazioni sempre più ampio appunto a beneficio di quello che si diceva prima, di quel ragionamento che deve poi portare a dell'elaborazione ma tu elabori sulla base delle conoscenze che hai e delle conoscenze che acquisisci. In Qatar non abbiamo direttamente firmato delle cose ma abbiamo lavorato moltissimo con due realtà, fondamentalmente con Guani che è la mega port authority che raggruppa i tre porti del Qatar e con Q Terminals che è il terminalista che gestisce alcuni dei terminal particolarmente di Porto Hamad e poi con la Qatar Free Trade Zones. Con queste realtà abbiamo stabilito una serie di appuntamenti e di aggiornamenti e devo dire la verità grazie anche all'ottimo lavoro di ICI e ITA con i nostri colleghi dell'Istituto per il Commercio Estero. Insomma sono persone eccezionali, di grandissima professionalità. Su tutte vi prometto di ringraziarne almeno uno personalmente che è Giuseppe Trigano che è una persona di grandissima sensibilità e soprattutto di grande competenza tecnica. Con questo il Paese si è presentato molto bene, ha capito che ci sono delle possibilità per loro, come dire, per i Qatarini di investimento in Italia ma soprattutto per le imprese italiane e per la connettività italiana di creare condizioni per esportare lavoro e produzione anche lì e quindi, come dire, creazione di valori in entrambi i lati. Ora, come sempre, si tratta di dare gambe vere alle ottime intuizioni e alle ottime idee che abbiamo messo in campo. Abbiamo costruito, secondo me, un ottimo rapporto anche di fiducia reciproca e adesso si tratta di cominciare a mettere sul campo risultati concreti. È tutto allora per questa puntata di transporte, la numero 306, come di consueto per rivederla, per restare aggiornati su quello che succede nel mondo dei trasporti e dei porti e della logistica, avete a disposizione il nostro sito telenord.it slash transport e la pagina Facebook transport. Grazie per essere stati con noi. Gruppo Spinelli Logistics Provider Grazie a tutti.